Bene, i dati del 2015 sono dati ottimistici dal punto di vista delle nostre imprese, ma non solo le nostre, anche quelle del manifatturiero, perché questa indagine copre anche stranamente il manifatturiero. La novità di questa indagine è che consulta anche la micro e piccola e media imprese, cosa che nelle altre indagini non è mai stata fatta. Detto questo, c'è un saldo comunque negativo delle imprese che hanno chiuso rispetto a quelle che hanno aperto e questo non è sicuramente un dato entusiasmante, anche se è migliorativo rispetto al 2014. Noi auspichiamo che questo sentore di ottimismo che c'è nelle imprese trovi poi conferma da parte del Governo con riforme serie e soprattutto per quanto riguarda la pressione fiscale e burocrazia. Da parte della regione chiediamo che, anche se parecchi buoi sono già scappati dalla stalla, come si suol dire, che la nuova riforma della legge 29 sul commercio si armonizzi con quella urbanistica per evitare lo scempio che c'è stato in questi anni sul territorio con grandi aperture e con desertificazione dei centri abitati. E soprattutto studiare di concerto con un rapporto collaborativo con la nostra Confederazione nuovi stimoli per ripopolare i centri storici e le città.